Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video sulle Bedwars Attenzione ragazzi, novità perché per la prima volta siamo qui a fare una Bedwars in due E sono con Tearless Hola! Me l'avete chiesto un bot di portare Tearless e quindi facciamo queste Bedwars solo io e lui Team da due, mappe mai viste sul mio canale, logicamente Sarà una sfida nuova, probabilmente tutto più rascioso, ma vediamo come ce la caveremo Eccoci nella mappa Castle ragazzi, che è una mappa che non ho mai portato perché è una Bedwars a due Quindi è una cosa nuova Facciamo i blocchi e andiamo al centro subito Sì, ok siamo tutti quanti team da due, perfetto La partita è full perché ovviamente se qui inizia a non esserci un team ragazzi è un disastro Esatto Perché siamo otto giocatori in totale quindi Terribile Sì, però non posso comprare i blocchi con i blocchi Ebbè è un rapporto uno a uno giustamente Sì 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 esatto, io ti do un blocco e tu mi dai un blocco Esatto, utile Equo soprattutto Sì sì, quello è sempre più Allora, mi butto direttamente, vabbè l'ultimo blocco non l'ho piazzato Però tanto faccio prima così che a tornare Ah, sei morto? No, mi sono ucciso perché è inutile Ah, ok Almeno mi rifullo la vita È già arrivata gente? No, pensavo fossi arrivato al centro tu No, figurati È già arrivato un team al centro, i verdi Yeee E anche i rossi Oddio, noi siamo in blu I gialli non sono arrivati Vabbè, ok, ragazzi Ci abbiamo provato Questi sono veloci E sappiamo che hanno la loro tecnica Sticchetto e giubbotte Ma stickhades, io provo a rasciare Sticchades Altro che stickhades Sticchades Vediamo, c'è qualcuno qui a buttarmi giù No Andiamo Non conosco la mappa, quindi Neanch'io Questa qua non la conosco Strane, oddio Hanno rotto subito un letto Con quanta cattiveria però Eh, là stanno litigando I verdi sono quelli da nostra destra Guarda Qui ci sono i gialli Il rosso al massimo è da solo in base I gialli sono fuori I gialli Ok Entrambi? Sì Bene Stai suonando dai gialli Sai cosa fare, esattamente Ah no, non so cosa fare Dove cazzo è il letto, scusa Allora, se sali sulla tenda E poi devi mettere un blocco E devi arrivare accanto alla casetta Questo è un problema Non lo so mica dove è il letto Sai cosa fare, mica tanto Allora Vabbè, io so dove è il letto Quindi possiamo andare assieme Guarda, è lassù, bravo Ok E ti prendi la porta Ok, ah ok, perfetto Sorry 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 Sorry, per niente Ok Ciao giallo Ti uccido Non mi aveva neanche visto Morto Lui o il te? Eh no, il giallino Ah Hanno distrutto anche i rossi Siamo gli unici Siamo gli unici colletto Colletto E la partita Eh sì Riesci a tenerli Che io adesso provo a tornare Cercherò di passare al centro Magari di prendere dell'oro Di fare qualcosa Ma Che cazzo di rossi Si sono fatti questi ragazzi Due minuti Quaranta Siamo gli unici Vuoi sapere cos'è? Eh, sono le partite da due Sono tutte così purtroppo Wow Così come quelle singole Questa è l'essenza del rush Sta partita Sì, sì Aspetta, c'è un verde Che tenta di venire da noi Eh vabbè Sta arrivando Sta arrivando E che venga Faccio vedere di non considerarlo Lo vedi? Yes Guarda io sono dietro Oh Minchia Aratissimo Vabbè Non ho preso l'oro in tutto ciò Perché sono Stavo tornando a difendere Si è rimasto male Eh Fast Sdashda Quindi cos'è? Un hack Suppongo Fast qualcosa Esatto Cazzo Fast cosa vuoi C'è ne uno sopra di te Eren Arrivi Sono caduto Merda merda Ho fatto il tempo a switchare Che sono morto Cioè voglio dire Il verde arriva qua Eren Vuoi una spada? Eh lo so Una spada che si arriva Grazie Tu ce l'hai la spada? No me la faccio al volo Eh ma perché l'hai ceduta a me? Che tu sei quello Tutto lì bardato Quindi puoi difendere Guarda Fatta Guarda ti do anche 12 di ferro Se vuoi No 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 Tranquillo Metti lì da parte Cosa fai lassù in alto Te splendore? Vai che si arano tra di loro Che sono stupidi Cosa fanno? Si arano? Un pappagalli? No come facciamo qui? Ti butterò giù Dov'è ma? Ok l'ho buttato giù Non ho capito niente Però è andato Va bene Quindi adesso rimane Come una qui Arriva il verde Eccolo Eh 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 No Non ho niente Oddio Picchialo Picchialo picchio Picchio a mani nude Lo picchio a mani nude Si vince a mani nude Grande Quattro minuti di partita Grande Per questo video ragazzi Non è tutto Perché non dura niente Quindi non lo so Vediamo adesso cosa fare Eccoci nella mappa rustica Ok non è la cosa che riguarda Una mappa rustica No non ci sono le mongolfiere Scherzone È rustica Continuo a sbagliare mappa Iaginau Ma dai ne monte a Ma che cavoli vuol dire Iaginau vuol dire sì certo Sì certo Io riposto sì tua mamma Ah ok Non so di cosa stiano parlando Però va bene così Ah tra l'altro Il rosso È già da solo Quindi ringraziamo L'altro partecipante Ho fatto startare il server Ragazzi che Eravamo In otto Quindi Qualcuno ha voluto Farci questo Il pensiero Ecco perché ha detto Iaginau Sì certo Perché l'hanno L'hanno restato subito Eh sì Eh sì A quanto pare C'è già un blu qua Eh Con quali Mamma mi ha tirato un pugno Da sei blocchi di distanza Cioè tu non l'hai visto Tu non l'hai visto Guarda cosa fa Guarda cosa fa Hai visto L'hai visto Guarda che mi lancia L'ho visto L'ho visto L'ho visto Hai visto che aveva il target Verso di me Che sono caduto E è caduto anche lui Perché era tipo agganciato Che merda Mamma mia Devono morire questi giocatori Devono morire Gentili Guardalo che è lì in cima subito Lo so Sono qua Mamma mia Non ce la faccio più Sta gente Mamma mia Guarda Che pesi Che pesi L'altro che fa Builda Per andare al ferro Per arrivare da noi Vabbè Cos'è che sono sti qua I blu Sono i blu Sì Ma il blu è in base La Venissero in due Quanto Il catrame nel cervello Veramente Oggi C'ho il dente avvelenato C'è i buchi Nel cervello C'è i buchi Guarda lì Guarda lì Quanti Riesci a buttarli giù Ci provo Ok ho colpito il giallo Ok ho buttato giù il giallo Ok Allora Provo ad andare al centro Ok Mentre il rosso Giustamente A chi tira le frecce A me Ebbè Scusa Sembra giusto No Sì sì ovvio Qua Non c'è oro Sì 5 6 Sta arrivando un blu Quindi scappo Con 6 d'oro Perfetto Ci provo Non mi killano Al volo Come stanno facendo Arriva un blu dietro Arriva il blu dietro Eh Lo riesci a tenere Così mi faccio l'arco Con infinity Quanto fa Spiglia amore Dov'è che Guardalo Guardalo È imprendibile uomo Cioè non ce la fai Sì l'ho preso Aspetta Io non ce la fai Stai dietro Sì c'hai razzi nel culo Sto qua Cioè è una roba impressionante Che ci fosse C'avessi qualcun altro In culo Ogni tanto Ogni tanto Scusate Ogni tanto Ah Cosa ci stai dicendo Che ogni tanto No no Ok Che messaggio Stai facendo passare Ti rendi conto Quale sarà la copertina Di questo video È il mio sogno Che sia vera Oh che shot Mamma mia Mamma mia ragazzi Mi agito Mamma mia Lo schifo di un blu di merda Hai visto Hai visto blu di merda Hai visto Guarda che ha messo subito Hai visto cosa ha messo subito lì Madonna Madonna ragazzi Hai messo subito La ragnatela Sulla sullo spawn Ok È andato Rompiamola Non possiamo neanche romperla Minchè ci vuole un anno e mezzo Eran Aspetta che faccio io Ma qua non ce l'abbiamo proprio il ferro quindi No il ferro Spawno nell'isola a metà Se le vedi Allora Intanto io provo a tenere un attimo Quest'isoletta E Che dobbiamo fare Poi che poi Collegandomi a quest'isola Siamo collegati direttamente al rosso Lo so e lo sto arcando tra l'altro il rosso Il blu Siamo quasi Oh che lo stavo prendendo ancora Quello stronzetto Ma che mi ha visto Ma che ha visto la freccia Ah c'era uno al centro che lo arcava Si vede Dove entranno Quanto ferro E ne ho 18 E secondo te dove rushano i blu? Da me Da me stanno rushando Guarda che hack Guarda come hack era quello lì Panda Guarda il panda come hack era Ma io l'ho killato lo stesso Perché anche se hackeri Ti killo Aspetta che Sta facendo i numeri quello Mamma mia come l'ho shottato Non è morto Non è morto Ragazzi Ok in un altro po' No ha preso quello sbagliato dei due Sì vabbè però ragazzi Che colpo Cioè Ha preso quello sbagliato però Minchia Che colpo ma che sfiga anche Eh sì Vabbè figuriamoci no Guardate Cioè guardate che partita stiamo facendo Abbiamo un tumore sopra le teste Guardate qua Cos'è È un polmone marcito Che cos'è sto coso Ciao Marci Ci segue sempre Sta arrivando il blu Sta arrivando il blu Oh da noi Sì Oh ci spara Ci spara Non pensavo avesse l'arco No l'accherino L'accherino Si è fatto l'arco Ci mancava Sì guardatelo Ma che cazzo sta combinando Ma vedete cosa fa Com'è veloce Allora Ragazzi Io non ho mai visto nessuno Che possa avere delle abilità così Quindi Mi spiace Ma sì ma Piazzare i blocchi La velocità è quella Non è che Codo Codo il blu Vai E mo E mo cosa facciamo Che hack attiverai per fare questo Che cosa attivi Quale hack attivi La fly Eh sì va bene In effetti Poi non c'è cazzibili Più per nessuno Ho lanciato per sbaglio l'arco Non volevo Mi dio amo i gialli Grandi gialli Siete amici nostri gialli Eh vabbè Mi continua colpini da Posizioni indicibili Eh vedo Uh il rosso che li spara Il rosso li sta sparando Oh amo il rosso Grande rosso Eh no io non riesco Anche se c'è il buchino lì L'ho preso L'ho rimendato dentro Si è chiuso dentro Proprio tanto Perché non ce la fa più Guardalo Si è proprio barricato dentro adesso Dici che mi sta vedendo Ah sì Come si Mi vede? Secondo me No allora È impegnato da me Cioè Ce l'ha con me Oh il blu è andato Il rosso Il rosso si è ucciso il blu Grande Andiamo dal rosso Vai tu vai tu vai tu Dov'è il rosso È a sinistra È al centro mi sa Ok vado Occhio che ti sciotta Ho impegnato col giallo Occhio che sta arrivando Mi ha visto? Si Ah merda Mi attacca mi attacca No ha bardato bene Ha bardato bene lui È caduto è caduto è caduto Ma lui ha bardato bene cazzo È caduto Aspetta Uh Uh Oh No Non ci credo Non ci credo Che cambio Che colpo di scena Stanno arrivando i gialli Arrivano i gialli Tir Arrivano tutti Tutti arrivano Cazzo cazzo il rosso Ok sto killando il rosso Si è buttato Si è buttato il rosso Ok Il giallo anche si è buttato Eren Se vuoi andare dai gialli vai Ok ok aspetta Il giallo mi sta guardando È lì Oh si è incazzato un po' Il rosso Ha lanciato un ender Per il giallo Mi è arrivato in faccia Ok provo ad andare dai gialli Non prende il knockback Io provo ad andare Si è messo alla piattaforma Provo ad andare dai gialli Ok l'ho ucciso Oh l'ho superato No no lasciami andare No Oddio Oddio No no raga Stavo facendo i numeri È arrivato col bastoncino Non ci voglio credere No che sfida Ce n'è uno al centro loro Ok l'ho colpito Sono due Sono due al centro Occhio Come ha fatto a prendermi Dai come ha fatto Ma dai Ma ragazzi Allora io posso fare una cosa Vado dai rossi E gli faccio un ponte dietro Cosa devo fare? Io provo a tenerli così Ma non so quanto Eh non so Quello è in controllo del centro adesso No no io ti vedo Loro? Loro non credo Aspetta Dici che non mi vedono No no Non ti hanno visto Se riesci a passare dietro a loro Anche al centro E provare ad andare lì In base a loro Hai visto che lo sto facendo io? No Sto andando verso il loro ferro Oh bravo Finché incrocia le dita Tienemeli distratte Eh ci provo Sono al loro ferro Aspetta Raga Silenzio Sono tutti e due al centro Sti pirmi Sì Eren Non se ne sono accorti eh Sono entrambi qua Com'è Ok vado Madonna No sentami qua Stanno puntando in qua forse Madonna raga Non ci voglio credere Cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto raga C'è ma ragazzi Ma ragazzi Ma ci rendiamo conto Che adesso li frego No ma non hanno loro Sti barboni Non hanno niente Vabbè raga Che cosa abbiamo fatto Eh hai il ferro Fatti l'arma bella Le armi belle Eh sì Stanno tornando Stanno tornando da te Sì 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 eh Mi uccide sicuro Aspetta che No dai che lo stavo Lo stavo per spingere giù Ma ovviamente Non ce la faccio Non ce la farò mai Mamma mia ragazzi Che azione Che azione Tir Dove sei Al centro Oh cioè Oh cioè L'ho fatto fuori uno L'ho fatto fuori uno Grande Ok anche l'altro Anche l'altro Ok Scusami È morto È giù Madonna Che partita Sì Abbiamo vinto Una partita Due letti distrutti Tutto sommato Grande Niente male Nice hacks Ma cosa Ma vi siete visti in faccia Vi siete visti in faccia Guardali Guardali colpevoli Guarda questo qui Era un hacker della madonna Sto qui E scrivono Chi è che l'ha scritto Chi è che l'ha scritto No l'ha scritto un altro Raga io non ho parole Hackeravano come dei porci Questi Non ho parole Vabbè Il blu era falese I gialli no Il blu era falese Ok c'erano delle cose strane Il blu era Cento per cento Gli altri erano da valutare Madonna ma come osano Come osano Rido Quindi ragazzi Questa Anzi queste Erano le due partite di oggi Ne abbiamo fatte due Perché la prima era Una cosa Rapidissima La seconda è durata 16 minuti Quindi Mi sa che ve la porterò Con tanti tagli Anche perché è stata Una partita un po' strana Comunque ringrazio Tearless Che ci ha accompagnato In questo esperimento Delle Bad Dursa 2 Che non so se faremo ancora Perché è stato abbastanza Stressante Come dire Cosa ne pensi Tearless Grazie Tearless Il tuo contributo È sempre preziosissimo È crashato Tearless Vabbè Vi saluterò È crashato anche dal gioco Grazie Tearless Grazie mille Comunque ragazzi Io vi saluto Vi saluta anche Tearless In modo telepatico Lo sentite? Fate un po' così Dovesse sentire Nella vostra testa Comunque Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E ci vediamo Con altri Bad Durs Molto presto Ciao a tutti